Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video dei libri dell'avvento. Oggi è il giorno dedicato alle idee regalo, quindi ho selezionato alcune idee che ho trovato su internet di appunto oggetti che voi potrete regalare ai vostri amici o ai vostri parenti amanti della lettura. Oppure, perché no, potreste decidere di autoregalarvi qualcosa per voi che siete così tanto amanti dei libri. Ci saranno diversi di questi video, quindi in ogni caso, in queste settimane, avrete sempre nuove idee da parte mia appunto per i vostri regali natalizi. Cominciamo! Il primo di cui vi parlo è un oggetto che abbiamo visto tantissimo girare su internet in questo periodo, ed intendo novembre, perché questo video lo sto preregistrando. Uh, ecco il canino! Ciao amore! Lo vedete il mio cucciolo? Comunque, appunto, è uno di quegli oggetti che hanno girato per un po' anche su Facebook e sto parlando delle bellissime calze con le citazioni, ve le lascio credo qui, con le citazioni tratte dai libri, dai grandi classici e soprattutto non solo citazioni ma anche disegni tratti dagli stessi libri. Quindi, praticamente, per ogni donna amante della letteratura, sono un must a questo punto quelle calze. Le potete trovare sul sito www.etsy.com Comunque, ve lo lascio chiaramente come tutto anche nell'info box. Deriva da un'idea di una ragazza israeliana che ha deciso di creare queste calze e leggings con, appunto, le citazioni tratte dai libri. Ovviamente, sul sito troverete tantissime altre fantasie, ecco, per queste calze, però io qui vi parlo, ovviamente, della parte riguardante i libri. I soggetti ai quali si è ispirata sono molteplici. Abbiamo, ad esempio, il piccolo principe, abbiamo Dracula, abbiamo Alice nel Pese delle Meraviglie, abbiamo Peter Pan e così via. Oltretutto c'è la possibilità anche di ordinare delle calze personalizzate, quindi con le citazioni e disegni che desideriamo noi. Ogni paio di calze viene 21,79€ più le spese di spedizione. Credo, comunque, che come prezzo non sia una cosa esagerata, vedendo, appunto, la particolarità dell'oggetto di cui parliamo e quindi spero che questo vi possa ispirare per qualche regalo ad una persona amata. Passiamo adesso al secondo regalo che vi propongo. Questo si trova sul sito store.moleskin.com Quindi, ovviamente, parliamo delle moleskin, le famosissime agende e tacquini, perché producono entrambi, che ogni anno migliaia, se non milioni di persone in Italia acquistano per, appunto, l'avvicinarsi dell'anno nuovo. Di solito, come sapete, le agende della moleskin si trovano soltanto con copertina riera o comunque monocolore, ma hanno fatto, hanno creato delle edizioni limitate e alcune di queste si ispirano, appunto, ad alcuni libri e alcune opere letterarie. Ovviamente, come ho detto prima, le edizioni limitate si ispirano a tanti soggetti, anche non inerenti ai libri, ma io vi parlo solo di quelli, appunto, che riguardano i libri. Come soggetto per le agende abbiamo i Peanuts, che hanno un prezzo che va dai 19,90 ai 24,90 euro, in base al tipo di agenda che volete, sia come è fatta al suo interno, perché credo, come ogni agenda della moleskin, esistono sia quelle settimanali che quelle giornaliere, e anche in base alla dimensione che desiderate. Abbiamo poi le agende a tema Piccolo Principe, anche in questo caso il prezzo va dai 19,90 ai 24,90, in base al tipo di agenda che volete. Infine, abbiamo le agende ispirate ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Stesso prezzo, 19,90 a 24,90, in base al tipo di agenda. In ogni caso sono agende datate che partono appunto dal primo di gennaio del 2017, quindi è il momento giusto per acquistarle. Abbiamo poi dei taccuini, fatti sempre in edizioni limitate dalla moleskin, ed abbiamo anche qui diversi temi letterari. Abbiamo il taccuino ispirato a Game of Thrones, con un prezzo di 16,90. Bellissimo taccuino ispirato a Harry Potter, con un prezzo leggermente più alto, ovvero 22,90. Abbiamo poi il taccuino ispirato allo Hobbit, e in questo caso abbiamo un taccuino che ha un prezzo più basso, intorno a 10 euro, ed un altro invece che ha un prezzo che si aggira intorno ai 20 euro. Abbiamo poi il taccuino ispirato al Piccolo Principe, che ha un prezzo di 16,90. E infine torna anche la nostra Alice nel Paese delle Meraviglie, con un prezzo sempre di 16,90. Comunque, chiaramente vi lascio il link qui sotto per vedere tutte le edizioni limitate della moleskin, e avete veramente l'imbarazzo della scelta. Adesso invece passiamo ad un altro tipo di agenda, quindi siamo sempre sullo stesso argomento, ma in questo caso è un'agenda letteraria. La potete trovare sul sito www.metamorfosieditore.com E appunto è un'agenda che viene fatta ogni anno, alla fine di ogni anno, ed è completamente incentrata sulla letteratura. Quindi la potete trovare al suo interno autori, appuntamenti, fiere, novità, premi letterari, ricorrenze, citazioni, c'è veramente di tutto. E' molto carina anche al suo interno, ed è appunto concentrata sulla letteratura, proprio anche al suo interno, è la tematica principale. Quindi ci sono disegni, ci sono scritte, ci sono informazioni, che riguardano interamente il mondo della letteratura a 360 gradi. Ed appunto anche quest'anno hanno sottolineato il fatto che ci siano anche evidenziati gli appuntamenti più importanti come le fiere, perché oggigiorno le fiere sono sempre più numerose in tutta Italia, e a molte persone fa anche piacere conoscerle per potervi partecipare. La dimensione di questa agenda è 10 cm per 17,50 ed ha un prezzo di 14 euro. Girellando su Amazon ho trovato un regalo veramente, veramente carino. Si chiama Personal Library Kit. E potete praticamente acquistarlo direttamente su Amazon, vi lascio il link, ed è una cosa spiritosa ma molto, molto, molto carina. Si tratta infatti di un kit che potete regalare a un vostro amico o ad una vostra amica che ha tanti libri, che si trova a prestare in continuazione ad amici e parenti e che poi non si vede mai tornare indietro. Ecco, quello praticamente è un kit per un bibliotecario, come se la sua casa fosse una biblioteca. Quindi ci sono le schede da compilare, ci sono post-it, c'è la matita, addirittura c'è anche il timbro con la data, come appunto fanno in biblioteca. Di modo che lui avrà, o lei avrà sempre sott'occhio a chi ha prestato il libro, quando è stato prestato e quando questa persona glielo dovrà dare indietro. Secondo me è una cosa molto simpatica, carina da regalare a un amante della lettura e comunque è una cosa che magari non ha mai visto e che potrebbe effettivamente tornargli utile. Il prezzo di questo kit è 13,32 euro. Infine, l'ultimo regalo che vi voglio proporre oggi è la yearlamp, ovvero la lampada da attaccare all'orecchio. Allora, anche questa si trova su IVS, vi lascio il link sotto, e praticamente si tratta di una lampadina che invece di attaccarsi al libro, che secondo me è una cosa scomodissima, soprattutto quando uno è alle prime pagine del libro, attaccarsi alla lucina alle pagine non permette mai di poterle girare bene. Ecco, in questo caso invece la lampadina si attacca all'orecchio, una specie di auricolare che appunto gira intorno all'orecchio e poi viene in avanti e qui appunto viene proiettata la luce. Non è soltanto comodissima quando si legge a letto o appunto al buio, magari perché il nostro compagno o la nostra compagna stanno dormendo, e appunto è comodo perché si riesce a girare benissimo le pagine. Io per esempio quando ho la lampadina, quelle classiche con il gambo lungo, insomma, quando la punto su una pagina, quando giro, non mi si gira mai la pagina, quindi devo alzare, girare la pagina e ributtare giù la lampadina, ecco, per capirsi. In questo caso non avrete problemi, oltretutto viene proposta anche come una cosa utile per chi, ad esempio, si trova a fare dei lavori anche manuali, un po' di precisione, ecco, quella è una lampadina che può aiutare, o chi magari viaggia, quindi a volte anche quando si viaggia in treno capita spesso di passare all'interno di gallerie, la luce improvvisamente si abbassa, ecco, in quel caso avrete la lampadina che vi può illuminare. È un'idea carina, ma diversa dal solito, perché appunto è un'altra idea di lampada, secondo me, ancora più utile e che appunto potete trovare su IBS ad un prezzo di soli 9,90€, quindi ecco un piccolo pensierino che sicuramente sarà apprezzato. Bene ragazzi, il video finisce qui, io per oggi ho concluso con i miei consigli per gli acquisti, domani è sabato, quindi domani non uscirà nessun video, perché mi preparo per il vlog di domenica e appunto domenica vedrete il vlog della settimana appena trascorsa. Io spero, come sempre, che il video vi sia piaciuto, al termine di questo video troverete anche il posto dove cliccare, insomma, per vedere tutta la playlist dei video, dei libri dell'Avvento. Vi ricordo che i miei contatti sono sotto, seguitemi su Snapchat e Instagram e noi ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Ciao! Ciao!